Ciao Luca, come italiano devo dire che per cominciare che sono molto orgoglioso di te del modo in cui ci rappresenti in Europa e nel mondo, e anche nell'universo credo, allora cosa ne pensi delle futuri spedizioni di assestamento? Dovremmo concentrarci sul ritorno sulla Luna? Costruire una stazione e fare esperimenti seri o dovremmo puntare al grande Uomo Rosso, Marte, eccetera? Io penso onestamente che non siano l'una esclusione dell'altro, il passaggio sulla Luna mi sembra immediato e quasi obbligatorio per poterci spingere oltre verso Marte, le agenzie spaziali internazionali di tutto il mondo stanno già cooperando per un progetto lunare, per cui credo che sia interessante spingere verso un'esplorazione seria della Luna che non è stata ancora fatta, noi abbiamo messo piede sulla Luna ma in sei posti diversi senza una vera esplorazione globale, adesso è il momento di costruire le basi per un'esplorazione totale della Luna, capire le risorse, le potenzialità e poi da lì spingerci ancora oltre verso Marte.